La certezza che Dio non mi abbandona La differenza dell'uomo nel momento della prova Ci credo a questo Certamente non è facile Ma quando io so certo dell'amore di una persona Io sono certo che quella persona non mi abbandonerà Ma figuratevi quando si è certi dell'amore di Dio Dio nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo Non mi abbandona Vi è ancora un'altra espressione del canto del servo sofferente del profeta Isaia Che ci sta aiutando a capire i tratti della sofferenza del Signore Leggiamo in Isaia Che il servo sofferente è vicino a chi mi rende giustizia Il Signore Dio mi assiste Queste parole Vicino a chi mi rende giustizia Il Signore Dio mi assiste Sono parole di grande fiducia Sono parole di una fiducia solo in Dio Perché solo Dio mi rende giustizia E Lui solo mi assiste Senza tradirmi mai Perché Dio stesso Ci assiste Si scomoda per sorreggerci Per difenderci nel momento dell'attacco della prova Per salvarci Per aiutarci Per non farci sentire assolutamente mai soli Vedete come i tratti che Isaia ci ha detto sul Cristo sofferente Lui parla del servo sofferente ma già era in previsione Cristo Ci portano ad avere una grande certezza Dio ha sofferto nel figlio come me Dio non sempre ci libera dalla croce Ma non ci lascia mai soli Sulla croce Perché Lui è con noi sulla croce Dio ci assiste Ci difende Dio ci protegge Da parte nostra avere la fiducia Di questo amore E di questa certezza unica Che Dio non mi abbandona nel tempo della prova Perché Dio mi ama Ma dall'altro campo Dall'altro lato Dobbiamo porci degli interrogativi Dinanzi alla croce Alla prova Come reagisco io? Raccontatelo Chi vuole mi può anche scrivere Come reagisco dinanzi alla croce Alla prova? Siamo un po' tutti come Pietro Che rifutiamo in un certo senso Non solo Cristo crocifisso Ma molte volte anche di portare la nostra croce E noi molte volte diciamo Che dobbiamo portare la croce È vero Ma che cosa vuol dire portare la croce? Ce lo siamo mai chiesti? Chiediamocelo proprio Oggi Nella nostra riflessione Diamoci un minuto Due minuti Tre minuti di riflessione E dirci Che cosa vuol dire per me portare la croce? Quando io porto la croce? Quando ho rifiutato la croce? Io vi aspetto domani Pari più in tv Dritto al cuore Ciao a tutti Ciao a tutti